La mini arrambicata. Vediamo un po' se ci riesco. Il padre. la prima volta che faccio vediamo se ci riesco e se ci sta via quindi la prima volta che faccio questo indietro già che la faccio più conto questa volta eccomi qui adesso scendo la seconda volta già va meglio i piedi qui 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 non solo con una mano con quest'altra prima guardate guardate qui eccomi qui ora devi segare di lì lì si